Musica Dati sull'epidemia in chiaroscuro, contagi di ribasso, incalo anche le terapie intensive, ma aumentano l'indice di positività e i ricoveri. Il mondo del calcio si spacca, nasce la Superlega, fondata da 12 grandi club europei, tra cui Juventus, Inter e Milan, UEFA e Lega nazionali pronte alle cause illegali, da Boris Johnson a Macron e Draghi, i governi prendono posizione. Israele oggi getta la mascherina nel paese, la campagna di vaccinazione contro l'epidemia da coronavirus si conferma ad un livello più avanzato rispetto a tutto il resto del mondo, tanto da poter dire addio alla mascherina, per ora solo all'aperto. Marisa Laurito compie 70 anni, attrice e conduttrice, con la sua travolgente simpatia ha saputo conquistare gli italiani. Buonasera e benvenuti al TG2000, dunque la settimana si apre con i dati sul contagio tra luci e ombre, si preme intanto sull'acceleratore per la campagna di vaccinazione e l'Europa promette in arrivo 54 milioni di dosi. Letizia Davoli Sono ore di attesa per iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel, quella delle riaperture dopo lunghi mesi di lockdown più o meno duro. Il decreto che porterà le prime regioni in giallo dal 26 aprile è atteso per giovedì, insieme alle nuove regole per evitare un nuovo aumento nei contagi. Regole che fanno già molto discutere, soprattutto il mantenimento del coprifuoco per le 22, che va in senso opposto alla possibilità di uscire nuovamente a cena, seppure all'aperto. Sul tavolo anche un altro tema altrettanto discusso, sul quale domani il governo incontrerà il CTS, il pass vaccinale, una sorta di lasciapassare per circolare tra regioni di colori diversi o per partecipare a determinati eventi, che certificherà l'avvenuta vaccinazione o il possesso di un test covid negativo entro le 48 ore o l'avvenuta guarigione. Vaccini che sono arrivati oggi a 15.352.000 somministrazioni, di cui 4.507.000 doppie dosi. Le regioni, seppure ormai allineate al nuovo piano, non riescono ancora a raggiungere i 500.000 cittadini al giorno, come promesso per fine aprile dal commissario Figliuolo. Tuttavia, sono in arrivo milioni di nuove dosi. Da Pfizer l'annuncio per il prossimo trimestre di 250 milioni di dosi per l'Unione Europea, 100 milioni in più di quanto concordato per un totale di 600 milioni in tutto il 2021. Sul fronte ai contagi oggi si registrano 8.800 nuovi positivi contro i 12.600 di ieri, un dato che come sempre risente del crollo festivo dei test. Salgono da 209 a 312 le vittime, ma i numeri del lunedì contengono le registrazioni tardive dell'intero fine settimana. Cala ancora la pressione sulle terapie intensive, meno 67 i posti letto occupati nei reparti. Proteste oggi in varie zone del paese. Nei pressi di Firenze i ristoratori hanno bloccato un tratto dell'autostrada, reclamando per le norme che consentono il servizio solo all'aperto e per la permanenza del coprifuoco fino alle 22. A Catania invece traffico paralizzato lungo la tangenziale per un presidio organizzato dall'associazione di categoria dei venditori ambulanti Fenailp che chiedono riapertura regolare del commercio su aree pubbliche, mercati, sagre e fiere. Sentiamo adesso come questa situazione di caute aperture, di equilibrio tra prudenza e ripartenza viene vissuta a Nembro, in Lombardia una delle zone che ha pagato il tributo più alto alla pandemia. Luciano Piscaglia Desiderio sicuramente, io non vedo l'ora di riavere tutti gli studenti in classe, assolutamente, perché comunque l'anno scorso e quest'anno sono stati molto difficili e le conseguenze soprattutto sui ragazzi adolescenti le vediamo fortemente, quindi il desiderio c'è per noi e per loro, però c'è anche tanta preoccupazione. Anche i ragazzi adesso hanno voglia di uscire, li ho visti io, ci ho parlato, e hanno chiesto vogliono ripartire anche loro, vogliono uscire, vogliono tornare con i suoi amici, fare gli aperitivi, qualcosa, visto che non si potrà riaprire tutto, però qualcosa, un attimo almeno respiriamo. Lavoro in un ristorante, in un anno ho lavorato tre mesi, noi dove lavoro io non abbiamo esterno, se dentro non ci fanno aprire saremmo ancora continuati a essere chiusi. O si muore di virus o si muore di fame qui, perché se andiamo avanti così, più nessuno lavora, tutti questi bar, tutte queste attività chiuse, cosa facciamo? Poi vabbè, bisogna tenerci alle regole, bisogna vedere, secondo me è un'area di apertura a metà, perché riaprire però così non ha molto senso, secondo il mio punto di vista. Aspettiamo con ansia le riaperture, sempre col punto di domanda, resteranno aperte, si richiude, come va la cosa, i casi come vanno, è un po' un problema, cioè non si vede la fine, diciamo così, non si vede la fine. Andiamo all'estero per vedere, non senza un pizzico di invidia, scene che inducono alla speranza e alla fiducia. Da oggi in Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. Paolo Fucili. Scene di libertà a lungo desiderata e infine riconquistata. E' strano, commenta uno studente, stare senza mascherina dopo tanto tempo. Strano, ma è una bella stranezza, dopo che la mascherina era quasi una parte di te. Respirando liberamente, ha titolato trionfale un giornale. Da ieri in Israele la mascherina non è più obbligatoria all'aperto. Sembra una festa, dice un uomo, ma è una buona notizia per il mondo intero, anche se pochi altri paesi finora possono vantare l'invidiabile 81% di vaccinati di Israele. Qui anche le scuole da ieri sono aperte di nuovo. Speriamo che duri fino alla fine dell'anno scolastico, si augura una mamma. E per l'occasione ecco il primo ministro Netanyahu in visita ad una scuola di Gerusalemme. Al chiuso però, appuntualizzato, la mascherina si indossa perché i conti col Covid non sono ancora chiusi. E nei vicini territori palestinesi i numeri di morti e contagi sono ben altri. 23 decessi a Gaza, solo sabato il picco più alto fin qui toccato. E dato il Ramadan in corso, potrebbero ancora creare tensioni, come già venerdì scorso, le restrizioni decise da Israele per la pandemia all'accesso alla grande moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, di solito molto affollata nei venerdì del mese sacro dei musulmani. La procura di Velletri ha chiesto al GIP la convalida dei fermi dei due giovani di 18 e 19 anni accusati di lesioni gravi con l'aggravante dei motivi futili e abietti in relazione all'aggressione del 17enne avvenuta sabato a Colleferro. Non è il primo caso di grave violenza giovanile che si verifica nella cittadina laziale. Ricorderete tutti infatti la tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte. E allora il nostro Massimiliano Cocchi ha chiesto al sindaco di Colleferro come la comunità vive in ripetersi di questi episodi. Sentiamo. Ci dobbiamo interrogare su una generazione che in buona parte è scossa e è sprovvista di porti sicuri, sprovvista di punti di riferimento, di valori. In questa città, che è una città di provincia, c'è un teatro, c'è un auditorium della musica, c'è un cinema, ci sono 15 impianti sportivi pubblici, c'è una bellissima biblioteca pubblica, c'è un'offerta formativa incredibilmente varia. Quello che è mancato è un vero patto di collaborazione sociale. Tutti abbiamo pensato, le istituzioni, le famiglie, la scuola, di poter agire ciascuno per la propria competenza. E questa è invece un'ulteriore settorializzazione che alimenta la solitudine, alimenta la noia di questi ragazzi. Scoppia la guerra del calcio. I grandi club europei escono allo scoperto con un comunicato in cui annunciano di costituirsi in una Superlega chiusa sul modello americano, con le squadre partecipanti a vita. Un nuovo e ricchissimo torneo che autogestiranno. Durissima la reazione delle organizzazioni del calcio, ma anche dei governi. Sentiamo Federico Plotti. L'annuncio di 12 club calcistici, i più ricchi e titolati d'Europa, di dar vita ad una nuova competizione, la Superlega, sta diventando sempre di più anche un caso politico e non solo sportivo. Dopo il premier britannico Johnson e il presidente francese Macron, anche il primo ministro italiano Draghi ha detto no ad un torneo che non tutela il merito e le competizioni nazionali. Alla Superlega parteciperebbero, e di diritto, i 15 club più blasonati, ma anche più ricchi e potenti d'Europa, dal Real Madrid al Barcellona, dal Manchester United al Chelsea. Ci sono anche tre squadre italiane, Milan, Inter e Juventus, con il numero uno bianconero, Andrea Agnelli, vicepresidente della nuova competizione. Le altre cinque squadre verrebbero invece selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. Nessuna qualificazione, nessun merito sportivo, una competizione quasi privata che vedrebbe sempre i soliti noti protagonisti. Un torneo parallelo che porterebbe, tra sponsor, diritti e merchandising, montagne di denaro ma solo nelle casse di pochi eletti. La promessa di ricchi guadagni fa gola ai big del calcio, alle prese con una sempre più complicata gestione dei bilanci. Non può prevalere soltanto e sempre la logica del profitto e dei soldi. Avidità, egoismo, cinismo, arroganza mi sembrano le colonne portanti di questo progetto di Superliga. Un progetto che contraddice i valori dello sport, innanzitutto perché mortifica i campionati nazionali, ignora il merito del campo e crea una sorta di casta, un club di pochi eletti che pagano il diritto a esserci. Durissimo il presidente dell'Uefa Seferin che minaccia di escludere i club firmatari da tutte le competizioni europee e mondiali. Vogliono rumbare il calcio ai tifosi, ha detto, è un progetto cinico e frutto dell'avidità di pochi. Un gruppo di lavoratori di Alitalia ha scritto e consegnato al Papa una lettera in cui si illustra al pontefice la sofferenza e il disagio dei lavoratori del gruppo. Ci appelliamo alla sua attenzione al mondo del lavoro, si legge nel documento e alla sua sensibilità verso la sofferenza di decine di migliaia di famiglie private, della principale fonte di sussistenza per supportare la nostra richiesta di essere ascoltati presso le sedi istituzionali. Tra la provincia di Latina e quella di Venezia, sette persone sono state arrestate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento di extracomunitari in agricoltura. Ce ne parla Marino Galdiero. Sette persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del NAS di Latina con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento di manodopera extracomunitari in agricoltura, estorsione e impiego illecito di fitofarmaci in serra. La manodopera di origine bengalese, pakistana e indiana era impiegata su cinque siti produttivi che vanno da San Felice Circeo a Terracina, identificati 157 lavoratori e sequestrati beni per circa 557 mila euro. Tutto parte dalla denuncia di un bracciante bengalese che ha lamentato le condizioni di sfruttamento dei caporali, due suoi connazionali. La paga giornaliera era di 6 euro, le buste paga false venivano trasportati nei campi ammassati dentro furgoni, erano sottoposti a controlli e minacciati sul risultato del lavoro con sanzioni corporali ed economiche, sotto inchiesta anche un agronomo per l'utilizzo di fitofarmaci agli ortaggi non autorizzati che poi finivano sulle nostre tavole. Accanto a questa triste storia, quella dell'arrivo oggi dei primi lavoratori stagionali stranieri per assicurare le principali produzioni made in Italy. La raccolta era messa a rischio dalla mancanza di manodopera a causa della pandemia. A risolvere la situazione gli operai agricoli dal Marocco grazie ad un accordo con la Col di Retti. Papa Francesco, da Vescovo di Roma, torna a ordinare i sacerdoti per la sua diocesi domenica prossima, 25 aprile alle 9, nella Basilica di San Pietro. Francesco celebrerà la messa di consacrazione di un gruppo di diaconi di varie nazionalità formatisi nei seminari e nei collegi Capitolini. Il rito in diretta su TV 2000. Ed esattamente 16 anni fa veniva eletto come pontefice, successore di Giovanni, Paolo II, il cardinale Ratzinger, con il nome di Benedetto XVI. Cristiana Caricato. Alle 17.50 di quell'aprile 2005, la fumata bianca, alle 18.43, l'annuncio del cardinale Proto di Acono. Annunzio vobis gaudium magnum. Ore 18.48, Benedetto XVI, preceduto dalla croce, si affacciava alla loggia delle benedizioni. Si presentava alla piazza Grimita, orfana di Carol il Grande, come l'umile lavoratore della vigna. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella Cappella Sistina, nel secondo giorno di conclave, i cardinali elettori avevano deciso per lui il teologo fedele, l'anziano professore che aveva traghettato la chiesa ancora smarrita dopo la perdita del Papa Santo. Iniziava una nuova stagione con un nuovo padre che lentamente, con pazienza, imponeva il suo stile, la sua misura, persino la sua timidezza nel Magistero Petrino. Da autorevole capo di uno dei dicastari chiave della curia romana, la dottrina della fede, si trasformava in successore di Pietro, mantenendo il pensiero lineare e la comunicazione accademica, forzando la sua natura riservata per entrare in comunicazione con le folle e diventare il Papa di tutti. Le encicliche, il governo essenziale, le udienze affollatissime e i viaggi strategici nelle zone calde del mondo non gli hanno risparmiato il martirio degli scandali dagli abusi sessuali a Vatilix, in un pontificato tra i più complessi degli ultimi decenni, sorretto da fede cristalline. L'epilogo del suo pontificato ha oscurato per audacia e imprevedibilità l'esordio, ma la scelta rivoluzionaria delle dimissioni ha fatto emergere ancora una volta la chiave del suo magistero, la bellezza del cristianesimo. Improvvisa e violenta grandinata a Roma, una vera e propria tempesta, un ubifragio accompagnato da un vento fortissimo e soprattutto da una grandinata impressionante, un quarto d'ora di caos quello vissuto dalla capitale a partire dalle 13.30 di oggi, le immagini della precipitazione testimoniano meglio di qualsiasi parola l'accaduto a finire imbiancati, i quartieri Parioli, Salario, Nomentano e tutto il versante nord-est della capitale. E in tempo di pandemia soffre anche il comparto matrimoni, rinviati 4 matrimoni su 5, il settore da solo rappresenta il 2,5% del PIL nazionale, ma non ha ricevuto ancora nessun sostegno dal Governo. Clara Iatosti. Magari all'aperto e con meno invitati, ma al matrimonio non vogliono più rinunciare. Sono i nostri connazionali ai quali il Covid ha bloccato il progetto di una vita assieme. Tra chiusure e zone rosse rischiano di restare fidanzati a vita. Nell'incertezza del momento e senza indicazioni sicure sulla data della riapertura, l'ultimo report dell'Istat parla del 100% delle rinunce nei primi mesi del 2021, compresi i VIP, come la coppia Magnini-Palmas. Comeppure racconta di un settore in ginocchio, a rischio 80.000 aziende e 560.000 posti di lavoro, senza contare i cittadini stranieri che decidevano di sposarsi in Italia. Il settore del wedding tour mi ha segnato in Italia nel 2020 una fase di grande recessione. Rispetto ai dati del 2019, l'Italia ha perso in questo settore nell'anno 2020 oltre l'87,3% di presenze e il 92,7% in termini di fatturato complessivo. Si sono registrate nel 2020 226.000 presenze contro 1.783.000 presenze dell'anno precedente, quindi del 2019, e un fatturato di 35,5 milioni rispetto ai 486 milioni dell'anno 2019. Per l'osservatorio Destination Wedding Tourism l'interesse a sposarsi in Italia rimane, ma la domanda forte purtroppo non corrisponde alla possibilità di risposta, almeno per ora. Ingenuity, il piccolo drone arrivato su Marte con il rover Perseverance si è allevato in volo sul pianeta rosso. È la prima volta nella storia dell'uomo che si realizza un volo controllato a distanza e con motore su un altro pianeta. Il piccolo drone, che pesa 1,8 kg, è volato e atterrato dopo circa 40 secondi, esattamente come da programma. Nei prossimi giorni, rende noto la NASA, sono previsti altri voli. Ed ora vi lascio con TGTG, con Fabio Bolsetta. Buon proseguimento di serata, arrivederci. Buon proseguimento di serata, arrivederci.